Bologna Occhio che scoperto qui il Benevento, Don Sa Fino in fondo, Don Sa Don Sa rientra, Don Sa Super gol di Don Sa E' il cinquantacinquesimo Il Bologna in contropiede, passa in vantaggio Ripartenza devastante da parte del Centrocampista Ghanese Un gol che potrebbe valere tanto per il Bologna Valere tanto a livello personale per lui Potrebbe anche essere l'ultimo Con la maglia dei Felsinei Riceve palla da destra, se ne va Per almeno tre avversari E poi scarica alle spalle di Belez Inutile il tentativo Divenuti prima di Costa poi di recuperare Rimane anche freddo davanti al numero uno Sloveno Don Sa E fa 1-0 Bologna